La fondazione dell'abbazia imperiale di Sant'Antimo è tradizionalmente attribuita a Carlo Magno, anche se la prima attestazione risale all'anno 814 in un diploma dell'imperatore Ludovico il Pio. Nel corso del IX secolo l'abbazia, grazie ai privilegi imperiali e all'acquisizione delle reliquie di Sant'Antimo, consolidò il suo prestigio e nell'XI secolo, per la vicinanza alla via francigena, si trovò inserita nel sistema dei grandi itinerari di pellegrinaggio europei. L'attività di assistenza e cura dei pellegrini fece moltiplicare le donazioni a favore dell'abbazia, che divenne una delle più potenti fondazioni monastiche della Toscana. La ricca elargizione all'abbazia da parte del conte Bernardo degli Ardengheschi permise a partire dal 1118 l'edificazione della nuova chiesa abbaziale, in sostituzione di quella più antica, la cosiddetta Cappella Carolingia. Lo schema richiama le chiese di pellegrinaggio di matrice francese, eccezionale la qualità del capitello con Daniele nella fossa dei leoni. Nel chiostro è collocata la farmacia monastica e nel terreno antistante la facciata è stato realizzato l'orto di Santa Il de Garda, con alcune delle principali piante officinali della tradizione benedettina.